Ciao a tutti! Sto, è proprio che puoi trovare fisicamente all'appuntamento che rende mai. E' incredibile perché è venuto un po' un'abitudine, un po' per noi alti, ma è un po' per tante altre persone. E noi siamo sempre divertiti a lavorare per organizzare questo festival. Abbiamo cercato di tenere un po' come una criatura nostra, con la giù del Ciambradoc e l'organizzazione di Blu Lazare. E niente, possiamo trovare fisicamente, però abbiamo fatto un po' questa scelta di niente sia proprio perdita, perché forse anche in situazioni difficili e un po' instabili, come siete i suoi, è importante mantenere in contatto con la persona, con gli amici. E allora ci siamo in mano ai amici. E tanti amici hanno rispondito e hanno mandato la sua città di partecipazione. E loro hanno rispondito, sei che sono venuti in tutte le edizioni passate del festival. E niente, allora... Abbiamo, insomma, tutti questi regali che ci hanno mandato da lunghe. È un po' come un Natale for a stagione. E cuorenti mai, o è davanti. E voi facendo vedere e sentire, senza che i amici in giro per il mondo, da tante parti, o non mandar. E mandiamo un saluto a tutti i sei che l'hanno più a 40 mai, come un appuntamento. Tutti i sei che viaggiano, che vi non ci trovano per scoprire, per scambiare di idee, per scambiare di ospitalità, per incontrare. Ringraziamo tutti. E stanno, noi troviamo in una maniera un po' virtuale. E poi, dall'anno che vengono, noi troviamo in torno alla solita maniera. E allora, boom, 40 mai 2020. E poi, noi vengono fisicamente a 40 mai 2021. Ciao a tutti.